musica 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 unranked mettiamo le due versioni così la payload e basta non la voglio mettere voglio mettere queste versioni queste modalità e proviamole vediamo quale start vediamo un po' di quest abbiamo da fare 10 games dobbiamo giocare 5 partite con un support però non ho già ne ho fatte 2 quindi ne mancano 3 qua incertiamo intanto 2 con front line e bisogna vincere il game allora selecta champion io mi serve un support quindi andrei per forza con Pip devo fare la quest con i support prendiamo il Pip ragazzi perché mi piace usarlo Pip, Drogots e Inara sono i personaggi che so usare meglio abbiamo il Rukus in squadra che lagga abbastanza per colpa sua stiamo rallentando il caricamento eh speriamo che non dia problemi alla partita questa cosa alleluia ce l'abbiamo fatta cazzo siamo stati minimo 2 minuti a aspettare fa vedere il Rukus se c'è sì ma guarda come si muove sta sparando a caso boh speriamo non laghi allora turn off intanto qua allora prendiamoci subito il life rip che è buono sul nostro amico Pip allora intanto è la modalità normale quella dove bisogna catturare e pushare quindi a posto così dopo vediamo se abbiamo troviamo un'altra partita in questa modalità o in quell'altra sarebbe meglio quell'altra perché è più divertente ed è anche più sbrigativa e veloce però il support non è che faccia molto comunque dai si inizia 3 2 1 battle has begun perfetto siamo di qua andiamo eeeh ok perché sono io al centro non c'è nessun altro no non ho detto bye bene raga bene 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 forza state qui se avete problemi vi curo basta che mi lasciate vivere però beh oh first blood ragazzi io anche con i support faccio le kill ragazzi veramente molto forte bella io ho stirato la kill tieni che ti curo forza ah abbiamo pure il vikingino ragazzi questa è abbastanza finita mi sa devo curare io bene chi è dove stanno dove stanno eccolo lì bella androxus andro no androxus è morto cazzo non dovevi morire cos'è oddio cos'è sta roba mi sa che questo è un nuovo personaggio perché sta scrivendo non l'ho mai vista forza raga forza bene ci sta qualcuno da curare qui per quanto pare siamo solo io e rutus hanno cambiato la grafica dei colpi mi sa è anche un po' alla mappa penso l'ho mai vista così vai vai forza forza gli altri ehi tu da dietro che vuoi fare carica il colpo veloce bella mi sono curato e l'ho pure uccisa amico rukus tra un po' ti vengo a curare tranquillo tu muori siamo a killing spree per 3 mi devo curare rukus mi sa che è morto e sono morto anch'io erano 2 2 contro 1 da dietro anzi 3 forse ce l'ha pure victor vabbè allora prendiamoci il illuminate life rip ancora non posso stare da solo contro tutti qui però raga eh mi servite che cosa sta succedendo io posso ammazzarveli dove sta ok li ho uccisi bella 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 dovremmo essere arrivati la mirage in coming non ce ne frega appunto ho pushato e ho pure saltato all'ultimo per evitare ragazzi ho la ulti pronta forza team blue siamo fortissimi fa vedere se posso comprare qualcosina adesso no non posso comprare e vabbè come vuol dire immune non è che e questo è con noi ok ragazzi dai state qui bene 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 finchè non ci danno noia possiamo rimanere qua dentro ehi di qui di qui ragazzi di qua no mi hanno stunnato vi curo ehi c'è gente lì raga good night un cazzo good night dove stai intanto controlliamo il posto qui dentro abbiamo preso posto obiettivo catturato bene posso salire sul payload forza raga forza forza no merda mi è arrivato un bomb king addosso non l'avevo visto va bene va bene va bene allora prendiamo un counter eyes un master riding che adesso il master riding ci è molto utile per arrivare subito al punto dove sta il nostro payload eccolo qua ragazzi no da solo però non posso andarci va bene ho trasformato in polli andrebbero uccisi quando sono polli ma non posso da solo hanno messo fuori delle bombe qui mi devo curare hanno messo un'altra bomba all'interra bomb king vaffanculo smettila di lanciare queste bombazze raga qualcun altro bella venite venite da dietro attenti dietro qui c'è maiv curo bella l'ho uccisa però me ne devo scappare genus ecco come si chiama quello nuovo si era quello nuovo comunque è stato lui ad ammazzarmi ma dovremmo avercela fatta dovremmo aver fatto un bel cappottone 4 a 0 forza raga forza comunque l'altra volta l'avevo provato a registrare su computer ma a quanto pare il video viene laggoso comunque quindi mi tocca registrare per forza sempre su la ps4 ma a me va benissimo eh ah si è più forte sulla ps4 e vittoria nice 4 a 0 vediamo che ha fatto la best play non penso di essere stato io è stato il genus avversario vabbè noi comunque si è vinto quindi va bene vediamo cosa ha combinato eravamo tutti quanti lì mi sa che ci ha ucciso insieme vediamo ho fatto doppia sparava a caso ho preso quello ho fatto tripla ah ok nooo il best support è stato quell'altro non io però io ho fatto 4-3-4 bella bella raga ho fatto più kill di Tyra e di Rukus ma Rukus l'abbiamo provato l'altra volta non è fortissimo prepare for battle sono pronto sono pronto non abbiamo il front ma chi se ne frega qua bisogna fare i damage in realtà bisogna controllare il centro da quel che mi ricordo e fare kill punto di cattura è laggiù a 110 metri ragazzi siamo pronti siete carichi aspettate un attimo però voglio salire nei posti più sconosciuti ad esempio lì eccoci esatto adesso mi trasporto rimango qui no mi aveva spawnato col cavallo là sopra che figata forza issa issa no non posso saltare cavallino matto ragazzi veni a darmi una mano da solo non c'ha fo da solo non posso farcela e infatti sono morto ragazzi una mano e da solo contro tutti dove va forza madonna quanto ci mette a ricarica l'arma a sto coso ragazzi datemi una mano guardate come mi sono buggato pure no non posso fare niente mi sto caricando l'arma ragazzi al centro cazzo quella oh beh l'hanno uccisa attenti alle bombe raga bene bene possiamo ricontrollare il centro bravi venite a darmi una mano però vai via Rukus ma tanto muori prima di fare qualsiasi cosa a posto c'ho pure la ulti pronta adesso ehi chi è becca qua perfetto ho fatto la book wild buono ah quello è con noi ok nice raga nice ora stiamo controllando noi bravi questo è il vero teamwork ci mancano 103 punti forza ci mancano 39 punti 33 punti loro pure ce ne mancano pochissimi forza no chi è che sta prendendo il posto qui queste due raga 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 una mano una mano al centro al centro in the middle in the middle in the middle cazzo in the middle tattiche help middle forza ragazzi dai dai raga dai raga che battaglia che battaglia ci manca poco ci manca poco alla vittoria forza 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 376 a 57 bene 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 dovremmo averla vinta raga dobbiamo rimanere per 10 secondi qua dentro dai 3 2 1 perchè non finiamo perchè non si fa l'ultimo punto siiii yes vittoria e siamo a 2 vittorie su 2 per oggi che bello mi piace quando si finisce così e non abbiamo fatto nessun best ovviamente rewards beh tanta roba ci manca ancora un sacco per il livello 15 però e abbiamo fatto 4000 crediti 6 kill 13 morti 7 assist poco importa raga poco importa abbiamo 5599 monete posso comprarmi qualcos'altro comunque per questo vi è tutto se vi piace mi piace iscrivetevi facebook instagram discord telegram che sono in descrizione ciao ragazzi ciao sono voce parlante di quest'outro clicca sopra il nostro logo per iscriverti al canale invece se vuoi vedere i nostri video precedenti clicca uno dei due video che trovi sulla tua sinistra e buona permanenza sul canale